Buongiorno, oggi ci occupiamo di un argomento un pochino più teorico in cui cerchiamo di dare un senso al concetto di complessità in modo molto semplificato perché questo se vogliamo è uno dei temi cari all'informatica teorica, viene studiato anche dal punto di vista molto matematico, molto formale. Noi ci accontenteremo di riuscire a dare un qualche base un pochino più solida rispetto alle intuizioni che stiamo cogliendo nello svolgimento degli esercizi che stiamo facendo finora, quindi ci accorgiamo che alcuni programmi sono più, alcuni algoritmi sono più efficienti, più rapidi di altri, mentre per altri invece il tempo di esecuzione cresce più rapidamente. E quindi questo è il concetto di complessità che introduciamo che ha proprio come obiettivo quello di riuscire a capire quanto è efficiente una soluzione di un problema. Quindi noi la prima problematica che abbiamo, il primo obiettivo che ci poniamo sempre è essere sicuri che l'algoritmo risolve il problema, quindi è un aspetto funzionale. Faccio che deve fare? Sì. Se faccio che deve fare quanto efficientemente lo risolve questo problema e l'efficienza chiaramente è misurata in termini delle risorse che mi serve mettere in campo per poter ottenere quel risultato. Risorse che possono essere risorse macchina, quindi il tempo di esecuzione, la memoria occupata, oppure risorse uomo, cioè magari un algoritmo che è magari più efficiente ma richiede molto più tempo per essere implementato. Allora a questo punto è vero che il computer andrà più veloce ma ho speso di più in termini di risorse ore uomo di un programmatore. Quindi sono vari tipi, vari aspetti di cui bisognerebbe tenere in conto per poter dire se l'algoritmo A è preferibile rispetto all'algoritmo B. Noi ci focalizziamo, per il momento ci puntiamo l'attenzione su quelli che sono gli aspetti più legati al tempo di esecuzione. Tempo di esecuzione che chiaramente dipende non solamente dalla efficienza dell'algoritmo ma dipende anche dalla potenza di calcolo del computer che abbiamo. Potenza di calcolo che negli ultimi anni è sempre cresciuta di più. Questo grafico qua ci riporta quella che giornalisticamente è nota come legge di Moore che ci raccolta al passare degli anni, quindi dall'inizio del 900 all'inizio degli anni 20, la potenza di calcolo di una generica CPU. Ecco, questo grafico qua facciamo attenzione che è lineare sull'asse delle ascisse ma è logaritmico sull'asse delle ordinate, quindi questa che sembra essere, diciamo così, una retta, una linea, in realtà è un'esponenziale, una curva esponenziale. La legge di Moore dice, al di là dei coefficienti su cui si discute, ma che essenzialmente ogni 18-24 mesi la potenza di calcolo disponibile raddoppia, raddoppia fino ad arrivare alla potenza di calcolo, è grossomodo equivalente a quella dei cervelli dei mammiferi, quindi comincia ad essere una potenza di calcolo notevole. Questo vuol dire che se ogni due anni la potenza di calcolo raddoppia, vorrà dire che ogni due anni senza far nulla, sempre con lo stesso algoritmo poco efficiente, io riuscirò a risolvere dei problemi più grandi. Quindi semplicemente stando fermi l'efficienza degli algoritmi aumenta, o meglio il tempo di esecuzione degli algoritmi diminuisce perché lo stesso algoritmo può essere usato su una macchina che diventerà più veloce. Bisogna però vedere, confrontare, uno se abbiamo la possibilità di attendere magari otto anni prima che il problema che dobbiamo risolvere entro un lì prossimo sarà risolubile da un calcolatore. La seconda domanda è, ma la velocità a cui cresce la complessità algoritmica è maggiore o minore rispetto all'esponenziale dettata dalla legge di Moore? Perché questo vuol dire che problemi che essi stessi crescano in termini esponenziali io riuscirò a risolvere solamente per gradi, nel senso che devo aspettare dieci anni per passare dalla risoluzione, supponiamo di un problema di dimensione 3 a un problema di dimensione 4, altri dieci anni non per avere un problema dieci volte più grande ma da 4 a 5 e da 5 a 6 e così via. Problemi che hanno una complessità risolutiva esponenziale possono godere solamente marginalmente di un aumento esponenziale della potenza di calcolo. Se poi invece il problema avesse una complessità più che esponenziale, vabbè allora vediamo che il fatto che la potenza di calcolo aumenti si ci aiuta ma non più di tanto perché poi alla fine ci riduce di un fattore quindi anziché 100 milioni di anni saranno solamente magari 50 milioni di anni per avere risultato il che ovviamente non ci soddisfa comunque. Poi bisognerà fare una qualche piccola distinzione tra quella che è la efficienza dell'algoritmo della soluzione che noi proponiamo rispetto alla complessità del problema. Cosa intendo? Intendo che noi potremmo avere un problema che di per sé è risolubile in modo efficiente, quindi un tempo ragionevole, ma noi non siamo capaci. Non siamo capaci perché non siamo bravi programmatori, perché non abbiamo studiato bene gli algoritmi oppure perché un algoritmo che lo risolve in modo efficiente non è ancora stato inventato. Allora a questo punto è un problema di complessità dell'algoritmo, ma invece si è scoperto che ci sono dei problemi che sono intrinsecamente complessi, problemi per i quali non può esistere nessun algoritmo più efficiente di un certo livello di efficienza. Allora a questo punto possiamo sforzarci di cercare di migliorare, cercare di trovare dei casi particolari, ma intrinsecamente il problema non sarà risolubile, perlomeno con i metodi esatti di cui stiamo parlando. Allora proviamo a entrare nel dettaglio. Come possiamo rappresentare questa complessità? Allora questa complessità la possiamo rappresentare cercando di stimare quello che è una funzione, che qui chiamiamo tdn, che rappresenta il tempo di esecuzione di un problema. Un algoritmo se eseguito una volta sola ha un tempo di esecuzione che è un numero. Ci ho messo 3 secondi, ci ho messo 0,07 secondi, ci ho messo 0,001 secondi. Questo numero da solo non ci dice nulla. Ciò che devo studiare è capire come varia questo numero, questo tempo di esecuzione, al variare della difficoltà del problema. Per questo questo tempo di esecuzione è parametrato con un n che rappresenta in qualche modo la dimensione del problema da risolvere. Immaginiamo, come la figura di prima, il problema di risolvere può essere il cubo di rubi che quindi è il lato n uguale a 3, n uguale a 4, n uguale a 5, n uguale a 6 e così via. Noi avevamo svolto l'esercizio sul totocalcio, n potrebbe essere il numero di partite o il numero di opzioni per ciascuna partita. Ci sono dei parametri che caratterizzano il problema che stiamo risolvendo. Famiglie di problemi, alcuni dei quali più piccoli con n piccolo, alcuni invece complessi con n grande. Pensate alla differenza tra, diciamo così, sistemare l'orario di un gruppo di amici che si deve incontrare rispetto a sistemare l'orario delle lezioni del Politecnico. Il problema è lo stesso, trovare degli incastri che funzionino ma la dimensione del problema è enormemente diversa e quindi questo n di solito è un parametro caratteristico che rappresenta un po' la dimensione del problema che stiamo cercando di risolvere. Non è definito unicamente, ogni problema è caratterizzato da una sua dimensione caratteristica. Prendiamo l'algoritmo semplice, quello del ordinamento. L'ordinamento per scambi, il cosiddetto bubble sort, che prende un vettore di numeri e effettua una serie di scambi successivi per cui ogni volta che analizza una coppia di elementi, se questi elementi non sono nell'ordine giusto, cioè 6 è maggiore di 1, viene prima di 1 mentre dovrebbe venire dopo, perché 1 è più piccolo di 6, allora vengono scambiati di posto, quindi vedete che 6 va a finire qua e 1 va a finire qua. E ripeto gli scambi tante volte fino a quando il vettore non sarà completamente a posto. Vabbè, questo è un semplice argomento di ordinamento, tra i tanti possibili, che ripete più volte una serie di scambi e ad ogni ripetizione questi scambi vengono considerati su tutto il vettore. Se uno fa i calcoli, va a vedere che prendendo come passo di elaborazione quello dello confronto e scambio tra due numeri, l'argomento di ordinamento per bubble sort, per scambi, impiega un numero di passaggi che si può calcolare come n quadro meno n mezzi. Evitiamo chiaramente di entrare nel dettaglio, basta semplicemente seguire il doppio loop che costituisce l'algoritmo. Questo che cosa mi dice? È il tempo di esecuzione? No, non è il tempo di esecuzione, è il numero di operazioni elementari che sono fatte, che sono svolte. Dopodiché, a seconda della potenza del calcolatore, questo numero di operazioni elementari lo posso tradurre in millesecondi moltiplicandolo per un certo coefficiente che sarà diverso in funzione della potenza del CPU, ad esempio qui un pension 4 rispetto a un pension 5, questo qua è più veloce, quindi ha un coefficiente moltiplicativo minore. A parità di numero di operazioni il tempo di esecuzione su una macchina più potente ovviamente è minore. Ma in tutti i casi questa equazione che mi dice qual è il tempo di esecuzione contiene un termine costante moltiplicato n quadro. In questo caso la costante è 58 mezzi, in quest'altro caso la costante è 44 mezzi e così via. Allora, noi non siamo interessati a risolvere il problema quando n è piccolo, quando n uguale a 5 uguale a 6, siamo interessati a risolvere il problema quando n cresce, è lì che l'algoritmo comincia a diventare meno efficiente. E quindi andiamo ad analizzare come si comportano queste tempi di esecuzione quando n cresce. Quando n cresce chiaramente il termine dominante sarà il termine n quadro e gli altri termini, l'n, il termine n o gli eventuali termini costanti scompaiono di fatto, diventano trascurabili. Quindi in prima approssimazione possiamo dire che l'algoritmo di bubble sort ha un tempo di esecuzione proporzionale, asintoticamente per valori di n grandi, ha un tempo di esecuzione che è proporzionale ad n quadro, dove il fattore di proporzionalità chiaramente dipende dall'argo, dipende dalla macchina. Ma anche qua dipende dalla macchina, dipende per un fattore costante. Questa macchina che ha 22 n quadro è più veloce dell'altra che ha 29 n quadro, che a loro volta sono più veloci, anzi quasi il doppio, dell'altra un pochino più vecchietta che aveva 42 n quadro. Ma alla fine è un fattore costante. Quindi anche questo fattore costante non influisce sull'ordine, chiamiamolo l'ordine infinito, l'ordine di crescita di questa funzione. Quindi noi possiamo fare un'ulteriore semplificazione e dire, guarda che l'ordinamento per bubble sort ha un tempo di esecuzione che ha meno di costanti, quindi trascurando le costanti moltiplicative e trascurando i termini secondari, ha una complessità dell'ordine di n al quadrato. Quindi vuol dire che se io ho un problema che è 100 volte più grande di un altro, impiegherà 10.000 volte più tempo per essere eseguito, 100% 10.000 e così via. Allora, cerchiamo di formalizzare questa nozione intuitiva dell'ordine di complessità. Questo si formalizza attraverso tre simboli che sono, diciamo così, noti nella teoria della complessità, O grande, Omega grande e teta grande. O grande è il tempo, un limite superiore al tempo di esecuzione. Vuol dire che se io ho una f di n è una funzione e g di n è un'altra funzione, io dico che f è dominata da g, f è o grande da g, o lo leggiamo come dominata da, se da un certo punto in avanti questa definizione di limite, g è maggiore di f moltiplicata per un'opportuna costante positiva. E quindi da un certo punto in avanti f può fare cosa vuole, può andare su e giù, rimbalzare eccetera, ma sarà sicuramente al di sotto di g moltiplicata per una qualche costante. Allora, in questo caso il tasso di crescita di f di n sarà limitato, dominato dal tasso di crescita di g. Se vogliamo qua c'è la classica definizione espressa sotto forma di limiti, quindi esiste almeno un n0 per cui per tutti gli n maggiori n0 f è minore uguale di c per c. Lo scriviamo così, f è dominata da O. Attenzione che qui c'è un altro esempio che logaritmo di n alla seconda, f, è dominato da n. Però non è dominato molto bene, come si vede, perché in realtà questi due divergono molto, quindi questo tende ad appiattirsi parecchio, pur andando a infinito anche lui, e n tende a crescere linearmente. Quindi è vero che un logaritmo alla seconda o qualunque potenza è dominato da una crescita lineare, però questa crescita lineare non è che lo rappresenti molto bene, cioè è un upper bound molto ampio. Quando dobbiamo andare a vedere questi upper bound, ovviamente facciamo la stessa operazione che facciamo quando facciamo i limiti, cioè di andare a vedere solamente il termine dominante. Quindi se abbiamo ad esempio una funzione polinomiale come questa, a occhio vediamo immediatamente che è dominata dal termine x al cubo. Che sia 3x al cubo o 74x al cubo non ci cambia nulla. Ciò che ci interessa, perché ricordate che nella definizione c'era questa costante c arbitraria, quindi non ci interessa quale sia la costante davanti, ci interessa semplicemente capire qual è la funzione, il tasso di crescita con cui questa funzione cresce, va all'infinito. E ovviamente dobbiamo sperare di scrivere bene questa dominanza. dominanza, no? Questo polinomio è dominato di x al cubo, ma è anche dominato da x alla quarta, ovviamente. Però questo limite di x alla quarta è meno stretto rispetto a quello di x alla terza, quindi cerchiamo sempre di dare un upper bound, un limite superiore che sia il più stretto possibile, no? Dire che qualcuno è dominato da n elevato a n elevato a n non ci aiuta molto, perché quella è una funzione che cresce talmente in fretta che quasi tutte le altre funzioni crescono di meno. Quindi si cerca in qualche modo di dire qual è un fattore dominante noto rispetto al tempo di esecuzione tipico di un algoritmo. La stessa cosa si può fare dal lato inferiore, quindi definire una funzione che domini dal basso, quindi sia un limite inferiore che mi definisce qual è il tempo di esecuzione minimo. Allora per questo si ripetono esattamente le stesse definizioni usando la notazione omega. Omega ci ricordiamo che è da sotto perché omega ha i due piedini dal basso che la tengono su, no? Che sostengono la funzione. Quindi in questo caso abbiamo una funzione g che è omega, scusate, una funzione f che è omega se la funzione f è almeno veloce quanto la funzione g. Quindi g alla fine è un lower bound approssimo alla funzione f dal basso. Quindi stiamo dicendo che la funzione f, che è il tempo di esecuzione nostro, del programma, almeno cresce quanto n. Quindi lo apprezziamo dal lato opposto. Ovviamente le definizioni sono le stesse scambiando un maggiore con un minore. Quindi se siamo bravi noi avremo il tempo di esecuzione del nostro programma, che questa funzione f che ballonzola, fa cose strane, non la conosciamo. O meglio per conoscerla dobbiamo provare a eseguire il programma più volte, ma a questo punto abbiamo già risolto il problema, non stiamo ancora studiando a priori. Ma quindi senza sapere esattamente quali sono i valori di questa funzione f, sappiamo dire che è compresa tra un upper bound e un lower bound. E se siamo bravi, l'upper bound e il lower bound possono essere orientati anche dalla stessa funzione g. Però, attenzione, come fa una stessa funzione essere sia l'upper bound che il lower bound? Beh, semplicemente avendo due coefficienti diversi, c1 e c2. Allora, come dicevamo, se siamo tanto bravi, riusciamo a identificare una funzione che moltiplicata per un coefficiente alto diventa dominante dall'alto rispetto alla nostra funzione e usando un coefficiente sempre positivo ma più basso diventa dominante dal basso, allora conoscere l'andamento della funzione g ci dice molto, quasi tutto, su quello che è l'andamento asintotico a tendere della funzione f. Allora questa viene rappresentata dal simbolo θ, la lettera θ maiuscola greca visivamente è un pochino una combinazione di una o con una omega, vuol dire, vuol dire, ti approssimo sia dall'alto che dal basso. Infatti vediamo che qua, nelle definizioni di θ, ci sono entrambe le disuguaglianze sia dal basso che dall'alto, ovviamente definendo opportune costanti c1 e c2 positive. Queste, se vogliamo, sono le notazioni. E quindi noi abbiamo uno strumento molto semplificato che quando va bene identifichiamo un big θ, una θ grande rispetto alla complessione dell'algoritmo, quando siamo un pochino meno bravi magari riusciamo perlomeno a identificare un upper bound, uno grande, e attraverso questa funzione possiamo avere un'idea di quello che è l'andamento asintotico del nostro algoritmo. Chiaramente omega grande e o grande sono uno l'inverso dell'altro e invece il θ grande è l'intersezione tra omega grande e θ grande, ma questo l'abbiamo già colto. Ecco, se trasformiamo questo in grafici o in impressioni, noi possiamo ipotizzare di avere vari tipi di funzioni che hanno tassi di crescita diverse, ma queste cose già le sappiamo benissimo da analisi 1, che il logaritmo è molto più lento a crescere rispetto a una lineare, n rispetto al logaritmo per lineare, quindi n log n, rispetto a n quadro, rispetto a n cubo e rispetto al signore esponenziale che cresce più forte, asintoticamente più forte degli altri. Vediamo che con n piccoli fanno casino, nel senso che l'ordine magari è diverso da quello che ci si aspetta, ma con n grandi è molto chiaro che una funzione n log n cresce meno di un n cubo, tanto per capirci. Quindi noi studieremo la complessità dei nostri algoritmi cercando di ricondurli a uno di questi comportamenti. E dal punto di vista pratico, questi comportamenti sono terribilmente diversi l'uno dall'altro. Qui c'è una tabellina che prova a riassumere alcuni livelli di crescita o di uno, cioè costante, vuol dire che l'algoritmo ci mette sempre allo stesso tempo indipendentemente da quanti dati ha, n log n, 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 n log n, n quadro, n cubo, 2ln, sono esattamente quelli del grafico precedente. E proviamo a vedere quanto tempo ci mettono, su un'ipotetica macchina che esegue un'istruzione per microsecondo, quindi è molto lenta questa macchina, se n fosse 10. Beh se n fosse 10 troviamo dei tempi di esecuzione che vanno dal microsecondo fino al millisecondo, 10 millisecondi al massimo, è comunque un istante. 10. Però se già passiamo da 10 a 100, ci accorgiamo che per alcuni tipi di algoritmi passiamo dai microsecondi ad ancora i microsecondi, quindi sempre al di sotto del secondo. Da 100 microsecondi siamo passati a 10 millisecondi, da un millisecondo siamo passati a un secondo, quindi comincia da sentirsi un secondo di ritardo rispetto a un millisecondo, ma qua sotto siamo passati da 10 millisecondi a 10 alla 17 anni, se la complessità è un esponenziale. Questo vuol dire che se la classe di complessità è, diciamo così, polinomiale o meno che polinomiale, quindi polinomio logaritmica. Allora al crescere della dimensione del problema il tempo di esecuzione ovviamente sale, ovviamente sale di più o di meno. Vedete che a un certo punto se passiamo a un problema di dimensione 1000, il problema cubico comincia a impiegare dei minuti, non più dei secondi, mentre tutti gli altri problemi rimangono ancora all'interno del secondo. Se passiamo alla dimensione 10.000, allora il cubico si comincia a far sentire in termini di giorni, quindi mi sto chiedendo se abbia senso risolverlo oppure no, e quello quadratico invece è passato i minuti, quindi vedete che la dimensione del problema che riesco ad affrontare in un tempo ragionevole di qualche minuto o qualche ora, dipende dalla complessità. Ragionando contrario, se io dovessi risolvere un problema entro un giorno, allora questo problema potrà essere al massimo della dimensione 1000 se il mio algoritmo è cubico, mentre invece può essere anche 10.000 o 100.000 se, perché parliamo di 16 minuti, se il mio algoritmo è solamente quadratico. Quindi un algoritmo che ha una complessità inferiore permette in un tempo definito di risolvere problemi di dimensione maggiore. Altri problemi che invece sfuggono alla classe dei problemi polinomiali, ad esempio che hanno complessità esponenziale, invece si bloccano molto presto, cioè semplicemente da 10 a 100 non ci arrivo, perché passano dai millisecondi alle miliardi di miliardi di miliardi di anni e sulle successive unità di misura, 1000, 10.000 eccetera, non è neppure stato fatto il tentativo di indicare quanti vite dell'universo dobbiamo aspettare. Siete presente che 17 anni il nostro universo ha circa 10 miliardi di anni, quindi 10 alla 10. Quindi stiamo pensando già a un'augurata, se non faccio male i contiamenti, di 100.000 volte la nascita e la morte dell'universo. Un po' tantino da aspettare, onestamente. Questo perché questo algoritmo ha questo tipo di complessità. Un pochino ce ne siamo accorti con i nostri esercizietti sugli anagrammi, quando la parola comincia a diventare lunga si blocca di colpo, tra virgolette, nel senso che per passare da un certo numero di lettera a una lettera in più il programma rallenta sensibilmente. Per passare a due lettere in più non ce la faccio. Non ce la faccio ad aspettare, essenzialmente. Questi, ricordiamoci sempre, sono ragionamenti di tipo asintotico, perenne molto grande. Potrebbe essere benissimo possibile che un algoritmo di tipo esponenziale abbia i tempi di esecuzione bassi, 4 secondi, magari più bassi rispetto a quelli di un algoritmo di tipo quadratico, e che cresca magari anche apparentemente di poco, da 10 a 1000, anche questo a 10.000. Questi numeri qua non vogliono dire nulla se non stiamo studiando il problema con n che tende a infinito. ricordiamoci, se per caso noi siamo ancora in questa zona qui, allora il comportamento del tempo di esecuzione dipende dall'implementazione, dalle soluzioni di dati usate, dalla velocità della CPU, da tanti dettagli. Magari un algoritmo che ha una complessità minore a n quadro è più complicato da implementare, quindi fa più operazioni nel caso semplice. Quindi è più lento rispetto a un algoritmo più stupido, ma di complessità asintotica maggiore. Quello che è certo è che se n crescesse ancora, se continuassimo questa tabellina, questo signore qua a un certo punto comincerebbe a crescere come un n quadro, questo comincerebbe a esplodere come un 2 elevato a n, come un esponenziale. Quindi fate attenzione a non estrapolare quello che è il comportamento asintotico per n che tende a infinito, non estrapoliamolo sui valori piccoli di n, altrimenti prendiamo delle decisioni sbagliate. Va bene, ma noi come facciamo a sapere il nostro algoritmo di quale famiglia è? Allora, è molto complesso in generale, ma noi ci diamo 5 regolette semplici. 5 semplici regolette che ci permettono di analizzare il codice di un programma, il codice Java del nostro programma, applicando queste regole una dopo l'altra, e troviamo un modo pratico per definire una formula che ci approssima alla complessità peggiore, quindi nel caso peggiore, quindi lo grande del nostro programma. Quindi, anziché misurare empiricamente quello che è il tempo di esecuzione, facendo esecuzioni diverse su problemi con n uguale 1, 2, 3, 4, 5, proviamo a farlo analizzando il codice. Come si procede? Allora, 5 regolette abbiamo detto. Regola numero 1, supponiamo che tutte le istruzioni singole del nostro programma, quindi un'assegnazione di un valore, una stampa, una lettura di un dato, eccetera, impieghino tutto allo stesso tempo e questo tempo sia costante. Quindi ogni singola istruzione del programma ha una complessità pari a o di 1, una costante. Regola 2, se ci sono diverse istruzioni, supponiamo che abbiamo tutte la stessa durata. Quindi il fatto che io faccia una print line o il fatto che io metta un valore dentro un vettore, a di i uguale 3, hanno sicuramente un tempo di esecuzione diverso, l'input output è sicuramente più lento, ma per il momento noi lo ignoriamo. Dal punto di vista sintotico diventa solamente un coefficiente che moltipica il tutto, ma non mi cambia l'andamento tendenziale della funzione. Regola 3, se ho dei condizionali, quindi degli if, avrò un ramo den e un ramo else. Allora io calcolo la complessità del ramo den, calcolo la complessità del ramo else e prendo il caso peggiore. Quindi ipotizzo, sto facendo un upper bound, un limite nel caso peggiore, quindi ipotizzo che ogni volta che il mio programma incontra un if, scelga sempre questa la peggiore, quella che richiede più tempo di esecuzione. Regola 3. Regola 4, se io ho diverse istruzioni o blocchi di istruzioni in sequenza, una dopo l'altra, quindi istruzioni separate da punte virgola per capirci, io faccio una cosa, punte virgola un'altra, punte virgola un'altra ancora, io posso calcolare la complessità di ciascuna di queste istruzioni e sommarle. Sommare la funzione e sommare la complessità ovviamente con la regola dello grande, per cui se io ho un passaggio che ci impiega n quadro, un passaggio successivo che ci impiega n cubo, la somma dei due sarà o grandi di n cubo, perché n quadro è un termine che è trascurabile rispetto a n cubo e nella somma scompare, nella somma si perde. Attenzione che vale solamente per lo grande, non per il tata grande, perché stiamo sempre mettendoci nel caso peggiore. L'ultima regola, la quinta, è che se ho un ciclo che ripete delle istruzioni un certo numero di volte, allora la complessità sarà data dalla complessità del corpo del ciclo, quindi della parte di programma che viene ripetuta, moltiplicata per il numero di ripetizioni, per il numero di iterazioni. Vediamolo su un esempio. Applichiamo queste regole. Ci danno questo codice e ci chiedono qual è la complessità di questo codice. Allora, un occhio allenato vince subito n quadro, perché ci sono due lupani dati che hanno un limite di iterazioni pari a n. Ma vediamolo applicando le regole. Prima regola, ogni istruzione elementare ha una complessità pari a o di 1. Quindi noi abbiamo un'istruzione elementare, cioè l'incremento di una variabile e quindi a questa attribuiamo la complessità pari a o di 1. Poi abbiamo un'iterazione. Questa iterazione viene ripetuta n volte. Quindi perché? Perché u va da 0 a n incrementandosi di 1. Quindi quell'operazione elementare viene compiuta n volte. Quindi abbiamo una complessità pari a n, n è il numero di iterazioni. A questo punto, la combinazione del numero di iterazioni per la complessità della singola iterazione, della singola istruzione come corpo, è pari al numero di iterazioni n moltiplicato la complessità del corpo 1. O di n per o di 1 fa o di n per 1, cioè o di n. Quindi questa parte del programma viene eseguita in una complessità pari a o di n. Limitata superiormente da o di n. E poi ho un altro, quindi o di n, questa parte. E poi la parte superiore che mi dice tutto questo viene ripetuto un certo numero di volte e ancora vediamo che analizzando questo ciclo, che questo ciclo viene eseguito di nuovo n volte. Quindi abbiamo di nuovo un n. Allora, riapplicando la regola del prodotto, abbiamo o di n, n ripetizioni, per un corpo del ciclo esterno che ha una sua complessità o di n, e in totale ovviamente l'intero frammento di codice avrà una complessità pari a o di n per n, cioè n alla seconda, n al quadrato. Quindi con questo possiamo combinare tra di loro facilmente, questo analizzando il codice e vediamo che ciò che fa crescere la complessità molto spesso sono i cicli. Cioè ripeto una certa cosa più volte e quindi aumento, moltiplico per n o per il numero di interazioni, la complessità di ciò che stava all'interno del ciclo. Quindi alla fine la complessità non dipende tanto da quante linee di codice scrivo, ma da qual è il livello di annidamento dei miei cicli, dei cicli che sto facendo. Per questo che anche cerchiamo sempre di evitare di scrivere gli algoritmi in cui ci siano cicli annidati, su cicli annidati, proprio perché questi magari sono un modo poco efficiente di risolvere il problema che si potrebbe risolvere magari usando dei metodi di più alto livello offerti da librerie, come ad esempio sulle collection. Ripeto sempre più volte che cerchiamo di pensare in termini di insiemi, di sequenze e non di singolo dato che devo iterare col ciclo for. E se qualcosa cambiasse? Allora questo secondo esempio è leggermente diverso perché il ciclo interno non parte con u uguale 0, ma parte con u uguale t. Quindi il numero di iterazioni di questo ciclo non è n come prima, costante, ma dipende da t e t è l'indice del ciclo esterno. Quindi la prima volta farà n iterazioni, la seconda volta ne farà n-2, 1 scusate, la terza volta ne farà n-2, la quarta volta ne farà n-3 e così via. E quindi il calcolo del tempo di esecuzione diventa un pochino più complicato perché devo sommare ogni volta n-1, n-2 eccetera eccetera, con un po' di pazienza faccio i conti e arrivo sempre ad n-2. Sì, in realtà sarebbe n-2 mezzi rispetto a prima, c'è un fattore diviso 2 che prima non avevo, però in termini asintotici è sempre un n-2. Quindi in questo caso abbiamo sempre due cicli anidati, anche se uno risparmia qualche cosa, la complessità complessiva è rimasta sempre n-2. E attenzione a non farci fregare, perché qui ho tre cicli for, perdono, ho tre cicli for, questa è una complessità odn, questo sappiamo già da prima, è una complessità odn quadro, ma il fatto che questo primo viene concluso prima di iniziare il secondo, questi due blocchi non sono annidati l'uno dentro l'altro, bensì sono messi in sequenza. Allora se sono messi in sequenza, le loro complessità si sommano. Sommarle vuol dire prendere il massimo tra i due ordini di grandezza, e quindi odn, odn quadro, questo odn scompare, è trascurabile rispetto all'odn quadro. Questo vuole anche dire che se voi state scrivendo il codice, andare a ottimizzare questa cosa qua non serve a niente, perché vi permetterebbe di essere più veloci in una parte del programma che già non è quella che rallenta maggiormente. Quindi bisogna concentrare la nostra attenzione sulle parti del programma che danno un contributo maggiore al tempo di esecuzione. Ecco, così come qui abbiamo un'altra variante in cui a seconda che t sia pari o dispari fa cose diverse, in alcuni casi fa un ciclo che ha una complessità odn, in altri casi invece fa un'operazione semplice, se riazzera questa variabile. La regola della scelta ci dice che se tu hai la scelta tra due opzioni, la complessità dell'intera scelta è uguale al massimo tra le due complessità, alla peggiore tra le due, quindi odn. Odn moltiplicato per n iterazione farà odn quadro. Quindi alla fine anche modificando il dettaglio di come si esegue il ciclo interno, evitandolo in alcuni casi, con delle condizioni che in alcuni casi ti fa prendere una strada più veloce, alla fine la complessità continua, non ci siamo spostati da questo n quadro maledetto in tutte le varianti di questo esempio. Quindi la struttura dell'algoritmo molto spesso parla già e ci dice qual è la sua complessità. Quindi in pratica noi impareremo facilmente a riconoscere qual è la parte del programma che probabilmente è quella che domina il tempo di esecuzione e quindi cercare di individuare come poter migliorare, come poter ottimizzare questa parte. Poi lo vedremo anche sperimentalmente se diciamo che avremo un po' di tempo. Ci sono dei programmi che sono chiamati profiler, che vanno proprio a misurare dove viene speso il tempo di esecuzione. Questo riassume essenzialmente le regolette che ci siamo detti prima. Se io blocchi in sequenza oppure in scelta prendo più grande, se io blocchi anidati invece li moltiplico tra di loro. Non mi interessano le costanti, mi interessa solamente qual è il fattore dominante. E questa è una tecnica diciamo così che possiamo usare per analizzare la complessità dei nostri programmi, dei nostri algoritmi. cioè abbiamo già del codice scritto. Mettendosi dall'altro lato dicevamo magari il problema è intrinsecamente complesso e quindi non esisterà nessun algoritmo. Quindi c'è tutta una teoria che è molto più complessa che analizza la complessità dei problemi e non tanto quelli degli algoritmi. Quindi affronta lo stesso tema da un punto di vista diverso. Qua e qua bisognerà bisogna distinguere tutta la teoria distingui immediatamente tra trovare una soluzione a un problema oppure verificare che un determinato elemento sia una soluzione del problema perché spesso quando si parla di un problema non si capisce qual di due stiamo usando. Ad esempio nell'argomento di ordinamento un conto è dire dato un vettore dimmi se è ordinato o no diverso è dato un vettore non ordinato trasformalo in un vettore ordinato quindi nel primo caso sto verificando se è ordinato o no in questo caso ho un tempo di execuzione lineare nell'altro caso invece sto rendendo ordinato partendo da condizioni non ordinate e questo avrà un tempo di execuzione che invece non può essere lineare tra le occasioni particolari. Ad esempio se io ho un cammino tra più punti all'interno di una mappa un conto è chiedermi questo cammino è il più breve possibile oppure l'altro è determinare quale sia il cammino più breve possibile. Allora sono due chiaramente problemi diversi e molto spesso la verificazione di soluzione è molto più semplice rispetto alla soluzione da zero del problema stesso. Con questa distinzione in mente quindi sempre fare attenzione quando formuliamo il problema nella teoria della complessità si distinguono vari livelli varie classi di complessità adesso qui non entriamo nel dettaglio è uno studio che è stato iniziato da Alan Turing che di fatto è stato il padre del voi lo conoscete per il film nel quale viene raccontata il suo contributo alla decodifica di Enigma cioè la macchina che serviva durante la seconda guerra mondiale ai tedeschi per criptografare i messaggi ma di Imitation Game ma invece il suo contributo principale con i più duraturi sono stati sul fondare le basi della informatica teorica attraverso quella che oggi chiamiamo le macchine di Turing che sono strumenti matematico concettuali che ci permettono di studiare il comportamento degli algoritmi questi studi hanno portato di fatto a definire vari tipi di classi di complessità che sono grossomodo rappresentati dalle funzioni che abbiamo visto prima solo che le funzioni che abbiamo visto prima parlavano della complessità o del tempo di esecuzione degli algoritmi qui invece stiamo parlando della complessità dei problemi e quindi qualunque algoritmo non potrà essere più efficiente rispetto alla complessità del problema stesso quindi abbiamo problemi che hanno una efficienza esentotica di tipo costante o logaritmica o lineare o n log n terribilmente logaritmica vuol dire che io riesco a dare una soluzione in un tempo minore rispetto al numero di elementi cioè non li guardo neppure tutti questo ad esempio se io devo trovare un elemento in un dizionario se voi cercate la parola algoritmo in un dizionario non andate a prendere tutte le pagine di dizionario le scandite le leggete una a una sapete dove cercare perché sapete aprite una certa pagina e poi guardate in funzione delle parole che ci sono se andare avanti o andare indietro quindi con 3, 4, 5 tentativi riuscite a trovare una parola in mezzo a un dizionario che magari ne ha 30.000 quindi riuscite a risolvere il problema senza necessariamente trovarle tutte leggere tutte o analizzare tutti gli elementi cosa che invece fareste se faceste invece avreste un algoritmo che ha un tempo lineare cioè devo perlomeno leggere tutte le parole per poter dire qualcosa se devo calcolare il massimo in un vettore non ordinato non c'è alternativa di che guardare tutti gli elementi poi ci sono n log n ci sono n quadro tutta la parte degli algoritmi polinomiali eccetto la parte degli algoritmi esponenziali o peggio algoritmi fattoriali fattoriali è una funzione che cresce più rapidamente ancora dell'esponenziale tanto per farci piacere ecco queste classi chiaramente fanno un po' impaldire il ragionamento che avevamo fatto sulla efficienza delle strutture dati degli array list dove c'era a questo punto stiamo rivedendo usando di terminologia o di n o di 1 che già conosciamo quei termini che avevamo usato un po' informalmente lento oppure rapido oppure efficiente in ogni caso sono tutte operazioni che hanno una complessità massima pari o di n quindi siamo a questo livello qua nella gestione delle strutture dati abbiamo visto le tabelle di hash le tabelle di hash tendenzialmente hanno un tempo di inserimento un tempo di ricerca pari a o di 1 cioè il tempo necessario per costruire per calcolare la funzione di hash e poi vado a pescare l'elemento senza dover scandire il numero di elementi presenti però è importante anche sapere quale operazioni qual è la complessità delle singole operazioni perché ovviamente all'interno dei cicli all'interno delle funzioni ricorsive di cui trattiamo un secondo questi sono fattori moltiplicativi quindi cerchiamo di evitare di fare operazioni che richiedono di n soprattutto se siamo all'interno di un ciclo oppure se siamo all'interno di una funzione che viene richiamata più volte come ad esempio una funzione ricorsiva e da proposito di funzioni ricorsive proviamo a vedere invece come si rappresenta la complessità in questo caso nella caristica specifica delle funzioni ricorsive le nostre cinque regole non si applicano direttamente perché o meglio si applicano ma richiedono un pochino più di attenzione perché ovviamente la funzione richiama se stessa e quindi non so da che punto partire a calcolare la complessità immaginiamoci il nostro classico pseudo codice che abbiamo già visto la volta scorsa sulle funzioni ricorsive questo è lo pseudo codice che avevamo già visto esattamente la volta precedente dove abbiamo il nostro algoritmo che rappresentate la funzione solve che è qui che si compone di una sotto algoritmo più semplice il solve trivial e di un problema di una procedura in cui viene diviso un problema in sottoparti e poi ricombinate le soluzioni dal punto di vista quantitativo il fatto di dividere e ricombinare significa che noi prendiamo un problema di dimensione n e lo dividiamo in un certo numero di sottoproblemi chiamo a il numero di sottoproblemi questi sottoproblemi devono essere più piccoli rispetto a quello di partenza a volte sono la metà a volte hanno un elemento in meno a volte sono un decimo però sicuramente il sottoproblema deve essere più piccolo altrimenti la ricorsione non convergerà mai non arriverà mai al punto finale la nostra funzione solve è la nostra incognita quindi la complessità di solve è quello che vogliamo ottenere solve trivial molto spesso è costante semplicemente quando io ho un problema di dimensione 1 lo guardo tu sei risolto sì tu sei risolto no quindi molto spesso è costante dividere e ricombinare invece può richiedere un certo tempo a volte è una cosa istantanea cioè basta dividere un vettore a metà basta dire la metà è nel punto 3 e non c'è lavoro da fare altre volte invece bisogna prendere gli elementi spostarli quindi avere dei cicli o delle coppie di elementi quindi richiedono un tempo di recuzione per la divisione o per la ricombinazione che non è costante ma magari è lineare ad esempio allora come si mettono insieme tutte queste cose se noi diciamo se noi diciamo che tdn è la mia incognita tdn è la somma di di 3 4 componenti il tempo per sol trivial quindi quasi sempre costante più io dico più nel senso del massimo perché qui c'è un if e un else però in termini di o grande fare la somma fare il massimo sono equivalenti no? perché stiamo cercando il termine dominante quindi 1 più il tempo di divisione più il tempo di ricombinazione più e qui abbiamo un ciclo for è l'unico punto in cui abbiamo un ciclo for che si ripete a volte perché a era il numero di sottoproblemi in cui dividiamo il problema quindi è il fattore moltiplicativo che mi dice quante volte viene eseguito questo ciclo for e per ciascuna volta viene chiamata la funzione solve che è quindi una complessità pari a t e che t è la nostra incognita di prima però viene applicato su un problema che non è grande n ma è n diviso b quindi n mezzi oppure n per 0,9 o quello che sia e quindi quello che possiamo applicando le 5 regolette troviamo che t di n è uguale teta di 1 cioè solve trivial oppure cioè prendiamo il max tra questo e dividi complessità della divisione più a volte la complessità della funzione stessa applicata a un problema più piccolo n diviso b più il tempo di ricombinazione questa è un'equazione ricorsiva perché mi definisce mi impone un vincolo su t in funzione di quanto vale t stessa e quindi possiamo fare alcune prove chiaramente risolvere equazioni alle ricorsioni di questo genere è particolarmente difficile per fortuna io ho fatto un po' di giochini con WolframAlpha con il sito che conoscete benissimo basta scrivere dentro l'equazione alla ricorsione e lui ce la risolve e io ho fatto un po' di esperimenti pensando ad alcuni tipi di di algoritmi ricorsivi ad esempio la ricerca dicotomica la ricerca dicotomica significa ho un elemento all'interno di un vettore che contiene elementi ordinati e voglio trovare se un elemento c'è o no è la tipica ricerca nel dizionario voglio cercare il significato della parola ricombinazione inizia con la R allora apro il dizionario in metà l'ho aperto nella P vuol dire che devo andare più avanti allora vado un pochino più avanti troverò la Q allora devo andare più avanti vado avanti trovo la T allora vado un po' indietro e così via fino a quando con un certo numero di tentativi ma in ogni tentativo di fatto sto dimezzando o riducendo di molto la dimensione della parte del dizionario che devo cercare allora in questo caso cosa vuol dire vuol dire che la divisione è un'operazione o di uno cioè dividere a metà il dizionario trovare qual è la pagina di metà ad ogni livello di ricorsione faccio una sola ricorsione successiva perché delle due metà io so se devo andare avanti o indietro non le devo provare tutte e due e ogni volta dimezzo la dimensione del problema della parte di dizionario di cui sto cercando tempo di ricombinazione è nullo perché una volta che ho trovato la parola non devo far nulla allora se io metto queste cose dentro un'equazione di ricorrenza quindi scrivo proprio T di n uguale 1 più 1 per T di n mezzi più 0 scrivete questo dentro Wolfram alfa e lui vi dice che al di là di coefficienti costanti eccetera eccetera di cui andiamo a prendere il termine dominante il termine dominante è log di n è un tempo logaritmico quindi sublineare se vado a fare una cosa analoga con il nerd sort che è un altro algoritmo di ordinamento che di fatto prende un insieme di elementi lo divide in metà mette in ordine la prima metà mette in ordine la seconda metà e poi una volta che le due metà sono in ordine le fonde le fonde mescolandole come se fosse un mazzo di carte in cui andiamo a inserire a pescare dall'uno dall'altro mazzo a seconda di quale sia più piccolo allora troviamo che il numero di divisioni per ogni iterazione per ogni livello di ricorsione è 2 e in ciascuna di queste due iterazioni prendo metà mazzo metà degli elementi allora questa semplice modifica da 1 a 2 vedete che tutti gli altri sono uguali ah più il tempo di ricombinazione l'operazione di merger richiede n operazioni perché devo spostare gli elementi fa salire la complessità da log ad 1 a n da log ad 1 a n per log ad 1 a n se calcoliamo il fattoriale che è il primo esempio che si fa sempre sulla ricorsione il fattoriale è una procedura ricorsiva che ad ogni livello viene fatta una sola chiamata ricorsiva sul valore n-1 e risolvendo l'equazione alle ricorrenze ci viene fuori che t di n è proporzionale n l'esempio che si fa sempre sarebbe meglio non fare sulla fibonacci quindi fibonacci di n uguale fibonacci di n-1 più fibonacci di n-2 vuol dire che ad ogni interazione ho due sottochiamate ricorsive le quali hanno un problema che è n-1 o n-2 volte più piccolo ma questa piccola variazione cioè spostare da 1 a 2 il numero di chiamate ricorsive fa saltare la complessità da un lineare tranquillo n a un esponenziale 2 elevato a n quindi bisogna fare molta attenzione che questa iterazione questo ciclo for non fatto oppure fatto per due sole iterazioni fa cambiare radicalmente la complessità del problema il problema delle permutazioni che abbiamo visto prima sugli anagrammi è in un agramma ad ogni livello della ricorsione devo considerare n possibilità e una volta che ne metto a posto una il livello successivo della ricorsione dovrà lavorare su un problema che ha una lettera in meno quindi n-1 quindi il fatto che qui non ci sia 2 ma ci sia n in qualche modo fa crescere la complessità a una funzione che è proporzionale a gamma la funzione gamma è l'estensione ai numeri reali del fattoriale quindi qui c'è scritto n fattoriale o gamma di n in campo reale le combinazioni quindi il totocalcio in cui ad ogni livello avevo tre scelte possibili k scelte possibili e avevo n livelli mi dà k elevato a n che è un esponenziale k elevato a n è uguale a 2 a n in termini di complessità sono funzioni esponenziali che sono chiaramente maggiori più complesse rispetto a quelle polinomiali ma minore rispetto a un fattoriale quindi possiamo giocare su questi veramente pochi elementi quindi se la divisione e la ricombinazione ci sono si richiede un tempo costante o si richiede un tempo lineare sul numero di chiamate e su quanto è grosso il problema il sottoproblema su cui viene chiamata la ricorsione e da questo si possono ricavare vedete che è un piccolo di questo stesso framework delle complessità che sono radicalmente diverse questo ci fa capire che alla fine la ricorsione è un meccanismo generale che in alcuni casi mi dà soluzioni efficientissime perché la ricorsione non si allarga troppo non valuta troppe alternative possibili e in altri casi invece mi dà soluzioni che sono totalmente non efficienti come quelle esponenziali oppure fattoriali che sappiamo già che se salta fuori quello il tempo il tempo di esecuzione crescerà moltissimo oppure in modo duale potremmo dire che la dimensione del problema che potremmo affrontare stiamo tranquilli e rimaniamo su problemi piccoli perché altrimenti su quelli grossi non riusciremo di sicuro ad affrontarli quindi se volete fare qualche esperimento come dicevo prendete Wolfram Alpha ci mette dentro queste cose e vedete e vedete che cosa salta fuori quindi vi consiglio di farlo perché effettivamente cambiando pochino si vede che la complessità cambia anche di molto allora questo qua è un pochino un quadro concettuale dicevamo che però ci aiuta a capire sia la complessità degli algoritmi normali sequenziali sia soprattutto l'esplosione della complessità che viene data dagli algoritmi di tipo ricorsivo con questo bagaglio in mente chiaramente adesso andremo avanti a vedere alcuni esempi di algoritmi ricorsivi e poi passeremo sui grafi dove anche lì sarà molto più facile per noi capire la complessità di un problema di un algoritmo sui grafi ad esempio sui cammini sui cicli eccetera avendo idea di che cosa si intende con questo grande con questo teta grande che indica la complessità di un'esplosione di un'esplosione di un'esplosione